I presidenti dei consigli regionali del Piemonte, Mauro Laus e della Basilicata, Francesco Mollica, hanno presentato a Palazzo Lascaris il primo numero della rivista trimestrale Pagine Lucane, strumento che si propone di tenere vivo il legame con gli oltre 30.000 lucani presenti nella nostra regione. Durante l'incontro, Mollica ha anche annunciato che la prossima assemblea delle associazioni dei lucani nel mondo si terrà a Torino durante il Salone del Libro.